Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 3 ottobre. Vediamo quali sono le notizie principali sui giornali. Intanto il Ministro dell'Economia parla e parla con il Corriere della Sera. Oggi in prima pagina il titolo del Corriere della Sera, Conti, servono 14 miliardi. Ma come non ci avevate detto che avete coperto tutti i 30 miliardi? In realtà il titolo è un po' forzato perché poi nell'intervista realizzata da Fubini, il grande critico dei conti italiani, l'uomo che l'anno scorso faceva un mazzo così al governo. Ora una specie di intervista inginocchiata al Ministro dell'Economia che fa più deficit, sia chiaro, questo Ministro dell'Economia fa più deficit rispetto a quello dell'anno scorso, che iniziò una procedura di infrazione per un deficit che era inferiore a quello che farà Gualtieri quest'anno. Però Gualtieri è un solito europeista e quindi Fubini lo tratta da par suo. Qua a quest'ora si cambia la telefonata perché non si risponde quando c'è la zuppa. E allora che cosa succede? Le altre cose che dice importanti Gualtieri sono queste, aspettate che questo telefono DM funziona malissimo. Cosa dice Gualtieri? Oltre che servono 14 miliardi, Fubini timidamente, molto timidamente, gli chiede conto di questi 7 miliardi per l'evasione fiscale che arriverebbero nel 2019. Vi segnalo che nello stesso Corriere della Sera Enzo Marro, cioè un collega di Fubini che intervista il Ministro dell'Economia, Enzo Marro, dice che quest'anno l'incremento di lotta all'evasione che è andato in un fondo di ammortamento proprio della lotta all'evasione sono 378 milioni. Quindi si chiede Marro, ma 7 miliardi, ma dove li prendi? Questa domanda ovviamente al Ministro non viene posta, ma viene posta in questa maniera. Ma l'Europa le consentirà di fare questi 7 miliardi di posta dell'evasione? Che è una domanda delicata, carina, una di quelle domande che uno non si aspetta. E lui che vuoi che gli risponda, parleremo, metteremo le cornici, adesso non ne posso parlare, ma vi rendete conto la presa per il culo? E soprattutto come cambia? Basta essere seri e allora a quel punto è un consiglio che do a tutti quanti voi. Potete fare esattamente le porcate che facevano gli altri, ma con la cravatta. E a quel punto, e con una cornice europeista, anche nel vostro ufficio, parlando bene del capo, potete fare tutto, basta che lo facciate come Gualtieri, perché quello è possibile farlo. Tra l'altro la colpa di tutto quanto ovviamente deriva dal passato governo, dalle politiche di Salvini. Ma Gualtieri, ma se queste politiche di Salvini facevano così schifo, non sono le stesse politiche che tu stai rifacendo? E io dico purtroppo anche quest'anno, reddito di cittadinanza, quota 100, decreto dignità, cioè quella roba lì non la stai facendo, tale quale non l'hai cambiata, se faceva schifo cambiala! Ovviamente avendo come socio il Movimento 5 Stelle che quelle politiche le voleva, è difficile che tu le possa cambiare. Pensate di trovare tutto questo in intervista? Non la trovate. Cosa succede sulla manovra? Il messaggero ci spiega che ci sarà una botta sul diesel, che è la vera cosa, cioè ci faranno pagare più il diesel. Il diesel, secondo voi, chi ce l'ha? Le famiglie più povere. E continuate così, perché da una parte probabilmente daranno la botta sul diesel e dall'altra avranno questa genialata, dice oggi la verità, di aumentare l'aliquota per i più ricchi e portarla al 50%. Quando tu porti un'aliquota fiscale al 50% ci sarà un po' di invidia sociale, qualcuno contento, qualche comunista che godrà, perché anche i ricchi debbono piangere, no? Però il punto fondamentale è che se l'aliquota è la poca del 50% i ricchi scappano e cercano di stare il più lontano possibile da questo paese, ma questa cosa non è chiara evidentemente. Non basta la storia fiscale degli ultimi 50 anni per spiegare che tutti devono pagare tasse per quello che possono, ma un'aliquota del 50% è un'aliquota espropriativa, non si può capire. Le borse scendono, che è il secondo grande tema della giornata, per i dazzi di Trump. Ma c'è una cosa che i giornali nascondono, guardate per esempio i titoli, la titolazione, i sommari e tutto quello che scrive Repubblica, che titola Trump Attack! Non dicono che questo aumento dei dazzi, questi dazzi, che sono una schifezza, sia chiaro, io non voglio difendere i dazzi di Trump, sia chiaro, ma questi dazzi sono una risposta dell'America a degli aiuti di Stato all'Airbus, che sono quegli aeroni che voi vedete, che sono pagati dai contribuenti europei, quegli aerei non si reggerebbero da soli, da un punto di vista economico, se gli stati che fanno parte del consorzio non li pagassero. Questa cosa non se l'ha inventata Trump, ma il WTO, che è un'organizzazione mondiale che vi potrà fare orrore, ma che non è Trump, non è Trump che fa autonomamente dei dazzi, c'è una procedura che gli americani hanno iniziato nel 2004, perché la Boeing ha fatto ricorso, perché la Boeing fa gli stessi aeroni, non becca aiuti di Stato, dicono loro, da nessuno, fa questi aerei, dice però l'Airbus viene aiutata da Spagna, Germania, Francia e Inghilterra, che aiutano Airbus a essere competitiva, quindi è una concorrenza sleale, e allora il WTO ha autorizzato Trump a mettere questi dazzi. Non è che Trump si è svegliato una mattina, è da 2004 che esiste questa cosa. Giustifichiamo così Trump? No, i dazzi fanno male a tutti, ma quando piagnucoliamo, e facciamo bene a farlo, che ci saranno un miliardo di dazzi sull'agroalimentare italiano, non ce la dobbiamo prendere solo con Trump, ma ce la dobbiamo prendere con quei cazzoni dei nostri compagni europei, perché noi siamo un paese europeista, che aiutano Airbus e fottono noi, perché noi in Airbus non ci siamo, tant'è che i giornali oggi lo scrivono, di questi dazzi, 7 miliardi e mezzo, 4 e mezzo sono sull'industria aeronautica, e a noi non ci toccano, la nostra FIM meccanica e il nostro Leonardo, che partecipano all'industria, e una prima che verranno distrutte, diciamo da queste ultime gestioni, da quando si è andato via Guarguaglini, le hanno fottute queste aziende italiane, ma comunque, queste aziende italiane non avranno i dazzi, perché non partecipano ad Airbus, purtroppo, la minchiata purtroppo, è che ne toccherà il nostro agroalimentare, beh poi, due notizie economiche ancora che vi segnalo, Netflix che tutti quanti voi conoscete, è sotto il mirino del procuratore di Milano greco, che ha già beccato tanti altri over the top, Amazon, Google, più che Amazon voglio dire Google, e tanti altri operatori internazionali, che hanno molto business in Italia, ma non pagano le tasse in Italia, l'idea loro, secondo il Corriere della Sera della Procura di Milano, è molto interessante, e cioè che loro sarebbero, pur non avendo un solo dipendente in Italia, avrebbero una stabile organizzazione in Italia, e quindi dovrebbero pagare le tasse in Italia per il loro un milione e mezzo, due milioni di abbonati, sapete perché? Perché hanno server, infrastrutture, cavi, che sono la moderna infrastruttura e organizzazione, secondo l'ardita, ma interessante, queste tesi della Procura di Milano. Mediobanca, altro tema che il Sole 24 Ore riporta, cerca del vecchio di scalarsela, e vuol far fuori, come ormai tutti hanno capito, Nagel e Pagliaro, e qualcuno dice perché non gli è dato giù l'operazione IEO, una cosa un po' complicata per la finanza, ma insomma, oggi il Sole 24 Ore ce lo ricorda. A proposito, il Sole 24 Ore muore Giorgio Squinzi, ex Presidente della Confindustria, fondatore di MAPAEI, un personaggio, io l'ho conosciuto bene, straordinario, l'ultimo vero grande Presidente della Confindustria, che ha fatto il Presidente della Confindustria, non per i suoi interessi, ma per servizio. La sua azienda, che fattura miliardi, che ha utili colossali, poteva impegnarlo per anni senza nessuno. Il suo impegno confindustriale, è uno degli unici casi, negli ultimi, tutti gli altri hanno fatto il Presidente della Confindustria, per trovarsi un lavoro dopo, perché l'azienda non ce l'avevano, nel bene e non male, la Marcegaglia ha fatto il Presidente Leni, Montezemolo era Montezemolo, Boccia lo conoscete, insomma stiamo parlando di tutti i Presidenti, che grazie alla Confindustria, hanno cercato di avere un rilievo, diciamo, mediatico, Damato prima, e Squinzi dopo, erano due che erano le loro aziende, due grandi industriali, beh, tutto questo perché è giusto, come titolo del Corriere della Sera, l'industriale garantuovo, una famiglia povera, in un'azienda ricca, ed è vero per quanto riguarda Squinzi, chiunque lo conosce sa che straordinario uomo era Squinzi, gestito lui malissimo la Confindustria, non era il mestiere suo a fare il Presidente della Confindustria, ma questo nulla toglie la grandezza dell'uomo e dell'imprenditore, mi stupisco che oggi il Sole 24 Ore, che è il giornale della Confindustria, gli dedichi soltanto un piccolo colonnino sulla destra, sotto alle operazioni della Brexit di Boris Johnson, complimenti al Sole 24 Ore, che scrive tante cose importantissime, ma si dimentica di uno dei pochi, non solo Presidente della Confindustria, ma dei pochi grandi, veri, industriali, per bene, e signori, che scompaiono, ovviamente il Sole 24 Ore, gli dedica un piccolo colonnino, a pagina 1, ma sotto la Brexit. Beh, stupendo, oggi il fatto bastona Renzi, si diverte a bastonare Renzi, perché dice con lui l'evasione cresce, è una cosa fantastica, dice da 107 miliardi a 109 miliardi, insomma, sono riusciti a mettere insieme pere e mele, ma non voglio neanche parlarne, perché Travaglio oggi in realtà quello che fa, ed è importante capirlo per quello che vale il portavoce del Movimento 5 Stelle, come il detentato di Di Maio e di Conte, bastona tutti i dissidenti del Movimento 5 Stelle, Paragone, eccetera, tutti quelli che si oppongono insomma all'alleanza PD e Movimento 5 Stelle sono bastonati da Travaglio, financo quelli che alzano il dittino e dicono, ma scusatemi il PD in Umbria, avete capito cos'era? Era quello della sanità, dei concorsi, anche lì si deve fare l'alleanza, cioè lì è completamente cambiato il PD, però ora per Travaglio vale bene tutto. Infine, l'altra bastonatura invece la fa il giornale, nel comune del ministro di istituzione Fioramonti, che dice, ci dobbiamo scusare, con Toninelli, perché Fioramonti non è un gafferco come Toninelli, hanno tirato fuori un po' delle ultime anni di Facebook e di Twitter di Fioramonti, che ne dice di tutti i colori, non so, Berlusconi è un nano, Ferrara è un pezzo di merda, quell'altra è fatta de plastica, insomma una serie di insulti da hater di Twitter, che la metà basta, insomma abbastanza divertente il pezzo che ritorna, che dà il senso e il sapore di come la pensa questo signore, che è ministro dell'istituzione. Galli della Loggia e Feltri, gli ultimi due pezzi che vi segnalo, Galli della Loggia sull'arcivescovo di Bologna, che non smentisce nulla sul famoso tortellino dell'accoglienza, perché potrebbe anche non essere stata una sua idea, ma lui l'ha avallata, e dice benissimo Galli della Loggia oggi sul Corriere della Sera questa tendenza della Chiesa a confondere l'universale con l'indistinto, ed è una frase, una tesi importante quella di Galli della Loggia, tra l'altro che ricorda che nella Chiesa di San Petronio a Bologna ci sono i carabinieri davanti, i militari davanti, proprio per proteggere quel dipinto di Maometto che tanto non piace agli islamici e per i quali noi ci mettiamo i carabinieri a difesa, e nel frattempo mentre difendiamo quel dipinto dall'altra parte il tortellino non lo difendiamo, che mi sembra che sia una cultura molto più popolare e vasta di quanto rappresenti un fantastico dipinto di San Petronio. Feltri oggi invece si esercita nell'attaccare la Gruber, ma in maniera circostanziata e da par suo, per come ha trattato Salvini nella trasmissione dell'altro giorno, dice si è pure permessa di attaccarlo dal punto di vista estetico e per la sua pancia, dimenticandosi che quando si va al mare ci si mette in mutande e questo è abbastanza innegabile. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani. Ciao!